Coinbase, una delle più grandi realtà statunitensi attive nel mondo dei bitcoin, mette l'Europa nel mirino. Obiettivo elevare la famosa valuta virtuale, famigerata per tante autorità nazionali, da fenomeno di nicchia a strumento di largo consumo. La start-up, che ha già raggranellato 31 milioni di dollari di venture capital, ha annunciato lo sbarco del suo servizio di portafoglio virtuale in ben 13 paesi dell'eurozona, Italia compresa. Non solo, Coinbase si sarebbe assicurata l'alleanza di una banca europea? Grazie a cui, dicono, sarà più facile effettuare transazioni da un paese all'altro.